A Badia non c'è il 25 dicembre inteso come Natale, c'è il 24 dicembre che è davvero Natale. Alte, luminose, belle, slanciate. Sono imponenti. Calde proprio nel senso che riscaldano lo spirito. Da che mi ricordo io sono sempre giustito. Sono un'esperanza. Ed è bello vedere come i ragazzi di Badia si interessano. Raccoglie tutte le generazioni del paese. La bellezza, l'aggregazione e l'illuminazione. Fiaccole, passione, è l'anima di Badia San Salvatore. La bellezza, l'anima di Badia San Salvatore. La bellezza, l'anima di Badia San Salvatore. Grazie.